Il cadavere di un giovane di colore dell'apparente età di 20-30 anni è stato avvistato questa mattina alla radice del molo di Levante del porto di Catania. A lanciare l'allarme un ragazzo che stava pescando, i somozzatori dei vigili del fuoco e la squadra portuale hanno localizzato il corpo in attesa dell'autorizzazione del magistrato per avviare le operazioni di recupero. Sul posto anche gli uomini della Guardia Costiera, del 118 e della Polizia.